Volare, oh oh oh, cantare, oh oh oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Siamo a Bellante Mix Factor Tour, la tappa conclusiva del Mix Factor Karaoke che è stato tutto l'inverno al King Arthur a Teramo che è lo sponsor e sostenitore di tutto l'evento. Siamo con Anna Di Paolo Antonio, Anna parlaci di questa serata a Bellante. Siamo veramente contenti perché siamo riusciti a portare un prodotto, io lo chiamo prodotto, comunque per me è una creatura, nella sua crescita, quindi la sua evoluzione. Quindi nasce come una sorta di gioco e invece sta prendendo una piega molto seria, sempre tra virgolette, perché a noi piace un po' l'aspetto ludico delle situazioni. Quindi tutti i ragazzi che hanno partecipato alle varie selezioni che sono state fatte durante le tappe questo inverno al King Arthur, che anzi ci sostiene, io ringrazio il King Arthur che ci sostiene in questo progetto e questa sera vogliamo noi con appunto questo appuntamento dare a questi ragazzi l'opportunità di esprimersi al cospetto di un pubblico, di un pubblico che sta lì ad ascoltare solo loro, non vengono giudicati, quindi non c'è gara, non c'è competizione, ma la libera espressione di questi ragazzi che devo dire mi stanno dando molta soddisfazione e in virtù di questo voglio fare gli in bocca al lupo a Claudia Patacca che proprio domani, infatti stasera non sarà qui con noi, perché proprio domani sosterrà l'ennesimo provino con X Factor, appunto per partecipare al talent show che molto carinamente ci hanno coinvolto nella selezione dei nomi che abbiamo presentato, quindi io sono molto orgogliosa come una mamma con un proprio figlio, perché Claudia, incrocio le dita, possa raggiungere un bel traguardo, comunque sì è sempre un successo perché anche se non raggiungerà il massimo, già il fatto di essere stata selezionata due volte provinata, per noi di X Factor è veramente un successone. X Factor quindi è nato come un gioco, come dicevi tu, ma è cresciuto talmente tanto da riempire questa piazza di Bellante, ma so che in caldo ci sono anche altre novità. Beh, guarda, oltre al fatto che il 2 ottobre riprendiamo le tappe di X Factor Selection, quindi invitiamo tutti coloro che amano cantare magari a contattarci appunto su bontonservice.it affinché si vogliano iscrivere per le prossime tappe, ma soprattutto c'è un progetto di fare una compilation, appunto un CD dove saranno interpretati i migliori brani e con le migliori interpretazioni appunto di tutta la stagione e questo per me è davvero un sogno nel cassetto, se mai riesco a fare questa cosa sarei veramente felice perché ci tengo tantissimo a lasciare a questi ragazzi un punto tangibile della loro partecipazione. Vediamo un po', comunque ci sono tante cose, poi man mano durante le tappe magari racconteremo meglio. Io intanto voglio ringraziare anche l'amministrazione comunale di Bellante che nel suo piccolo, perché sappiamo come stanno messi, ci hanno dato l'opportunità di usufruire di questo spazio qui a Mulino San Nicola e quindi ci hanno sostenuto nel portare avanti un po' questo progetto.